Cleto Pallini, il comune di Pineto ha varato un cartellone per gli eventi estivi, eventi che sono già partiti però ora si entra nel vivo con alcune iniziative in particolare. Una serie di eventi, sono circa 60, l'evento clou è la pista di pattinaggio sul ghiaccio che si inaugurerà domenica pomeriggio e la pista che rimarrà fino al 10 di gennaio al centro di Pineto. Poi ci sono tanti altri eventi, diciamo che domenica pomeriggio in via Cristoforo Colombo ci sarà una mostra di presepi organizzata dall'Associazione delle vie dell'arte per continuare poi con tanti film per i ragazzi a partire dal 17, da giovedì 17 dicembre, quasi ogni giovedì ci sarà un appuntamento con dei film, cartoni animati sul Natale. Concerti? Concerti, diciamo più che concerti sì, è musica dal vivo di un paio di cover, giovanotti articoli 31, organizzata dall'Associazione Summer Smile che si terrà diciamo nei pressi della loro sede, nella stazione dove verrà allestito una tenso struttura. Quello che facciamo perché sostanzialmente ci viene anche un po' chiesto, sia perché i cittadini vogliono rimanere anche a Pineto però vogliono sicuramente trovare qualcosa, lo facciamo anche per le nostre attività, cioè non si fa un evento per il gusto di organizzare un evento, lo si fa per intrattenere sociale e nello stesso tempo economico. Grazie. 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 Grazie.